ma bentornati amici investitori e benvenuti a questo nuovo video io sono daniele il vostro consulente finanziario di fiducia e bentornati alla terza prova ci sono stati dei problemi tecnici per due volte di fila ci stiamo riprovando speriamo che sia la volta buona della nostra rubrica un occhio sui mercati la rubrica settimanale che si occupa di andare ad analizzare quelle che sono state le notizie macroeconomiche che hanno caratterizzato la settimana e vedere se e come queste notizie hanno avuto un impatto sui mercati finanziari come sempre prima di iniziare ci tengo a fare due precisazioni la prima qui nessuno sta facendo consulenza finanziaria non prendete questi dati che sto per dire come dei consigli finanziari assolutamente no sì sono consulente finanziario sì faccio questo di lavoro ma una consulenza seria sana professionale ha bisogno di tutta quanta una serie di elementi bisogna conoscere chi è il cliente che cosa sta facendo dei suoi investimenti perché sta investendo così a cosa gli servono questi investimenti i suoi obiettivi il suo grado di rischio tutta una serie di cose che ci rendono de fatto unici ed è il motivo per cui è impossibile prendere da questo video un'indicazione di acquisto oppure di vendita di un determinato asset non serve per quello punto numero due qui nessuno va a prevedere il futuro nessuno da questi video sta cercando di spiegare se l'esempito operano i massimi oppure arriverà dei nuovi minimi assolutamente no anzi questo video servono esclusivamente questa rubrica serve esclusivamente per dare una bussola dare delle indicazioni che possono essere utili a tutti quanti gli investitori per comprendere quanto meno dove stanno andando i loro soldi e per quale motivo il motivo in realtà è semplice non tutti quanti hanno la fortuna come me di studiare giornalmente i mercati ma magari sono interessati nell'avere un'idea generale molto generale di quello che accade al loro portafoglio che poi in caso devono andare a contestualizzare all'interno della loro situazione personale mi raccomando è un elemento importantissimo non perdiamo altro tempo e però e cominciamo subito a parlare un pochino di questa settimana e di che cosa è successo settimana che ha visto come protagonista l'europa come sempre noi prima partiamo dalle notizie macroeconomiche poi passiamo ai mercati e alla fine facciamo le nostre considerazioni e vedremo che tutta questa settimana è stata incentrata per l'appunto sull'europa perché perché sono usciti date delle inflazioni in europa e questo ha diciamo da adito a parlare un po' di quello che sono i vari elementi di discussione dunque settimana europea cosa è successo esce il dato dell'inflazione consumer price index il dato che ormai praticamente tutti quanti noi diamo come dato come dato a quale fare affidamento quando consideriamo l'inflazione l'inflazione di fatto ormai è diventata il consumer price index con tutti i suoi pro e tutti quanti i suoi contro su come è costruito il consumer price index ma non entriamo in questo in questo argomento all'interno di questo video consumer price index che è l'indice dei prezzi al consumo su un paniere di beni quindi quanto noi consumatori andiamo a pagare in un determinato paniere di beni quel dato indica l'inflazione sarebbe troppo semplice però andare a dire perfetto è uscito il dato del consumer price index anno su anno ed è rimbalzato di un 7 per cento perché perché in realtà soprattutto in questo momento di mercato a seguito di un anno passato con un'inflazione molto alta è necessario andare a vedere diverse sfaccettature del consumer price index che è quello che cerchiamo di fare e stiamo facendo ormai da un paio di mesi a questa parte come sempre tutte le dirette le trovate all'interno della rubrica che cosa quindi andiamo a vederlo in maniera sfaccettata rimbalzo di un 7 per cento quindi il consumer price index anno su anno ha un piccolo rimbalzo dal 6.9 della lettura precedente al 7 per cento di questa lettura ricordo sempre da ottobre praticamente dove abbiamo visto il massimo raggiunto da parte del consumer price index anno su anno abbiamo avuto una certa discesa anche importante soprattutto qui nella lettura di marzo o comunque scusate nella lettura di aprile che fa riferimento a marzo e come sempre ho detto attenzione mi raccomando questo non significa che adesso l'inflazione comincerà a scendere a questi ritmi non funziona così perché perché il consumer price index anno su anno per come è strutturato è vittima dell'effetto base effetto base ossia il grande il dato di il parametro di riferimento di questo dato dell'inflazione deve essere commisurato al marzo del 2022 e cosa c'è stato a marzo del 2022 c'è stata la guerra e quindi c'è stato il grande aumento dell'inflazione vertiginoso oltre a tutta la serie di elementi economici che conosciamo e quindi abbiamo avuto questa grande discesa per cui ho detto sempre mi raccomando non considerate questo dato come dato che ha sovraperformato l'aspettativa assolutamente no anzi è andato leggermente al di sotto delle aspettative e ci si aspettava anche qui un certo rimbalzo nessuno si aspettava ben pochi si aspettavano mi auguro un'inflazione che avrebbe sarebbe scesa del sarebbe arrivata al 5.5 per cento in questa lettura perché non funziona così ed è il motivo per cui dobbiamo sfaccettare un attimino l'argomento comunque 7 per cento piccolissimo rimbalzo neanche so se sarebbe corretto definire un rimbalzo perché di fatto siamo arrivati dal siamo praticamente a pari rispetto alla lettura precedente e comunque in linea con le attese quindi nulla di nulla di sensazionale diverso il discorso sul consumer price index mese su mese che quello che invece francamente tendo a monitorare più spesso in questo momento perché perché questo scusate perché questo dato mi permette di andare a guardare il paniere la volatilità di questi dei prezzi di questo paniere considerando per l'appunto il mese su mese quindi lettura precedente che fa riferimento a aprile e l'elettro precedente marzo e quindi possiamo vedere come si stanno muovendo i prezzi mensilmente lettura tutto sommato al di sotto delle aspettative 0.6 per cento la lettura il consensus era lo 0.7 per cento sotto rispetto alle ultime due letture 0.8 e 0.9 dei due mesi precedenti per cui comunque un'inflazione che rimane in linea con quelle che erano quelle che sono le aspettative di mercato ed è proprio sulle aspettative di mercato che vorrei fare un ragionamento prima di passare al dato core i mercati soprattutto in una fase come questa ma in generale già dal 2022 non piacciono le sorprese ed è il motivo per cui io sono francamente molto contento nel vedere un'inflazione che è in linea con le aspettative sia a rialzo che a ribasso perché perché dei dati che fossero stati se fossero usciti dei dati eccessivamente al di sovra dell'aspettative in negativo avremmo assistito ad un presumibile reazione esagerata dei mercati ma la stessa cosa in positivo se l'inflazione l'avessimo vista scendere e di tanto al di sotto delle aspettative avremmo visto una certa euforia e presumibilmente questo che cosa avrebbe comportato una bce delle considerazioni per cui la bce avrebbe dovuto tirare di più la cinghia proprio per evitare un'eccessiva euforia però questo non è successo ed è il motivo per cui come sempre dico è inutile prevedere il futuro dobbiamo semplicemente comprendere i vari scenari e poi capire che cosa vogliono significare quei determinati scenari importantissimo questo aspetto l'inflazione core l'inflazione core a differenza del anche anche quest'anno su anno a differenza del paniere normale se così vogliamo definirlo è l'inflazione che va a considerare i prezzi ai consumatori dello stesso paniere del consumer price index esclusi i prezzi dei beni alimentari e dei beni energetici importante questo aspetto e che è arrivata a un 5.6 per cento quindi inflazione normale 7 per cento questa un 5.6 per cento a differenza di quella che abbiamo visto dell'inflazione normale che scende da ottobre questa è continuato ad aumentare e finalmente abbiamo visto una certa arrestata dal 5.7 per cento della lettura precedente siamo arrivati al 5.6 per cento comunque in linea con le attese comunque in linea con le aspettative ed è uno di quei momenti in cui per cui addirittura il la mancanza la mancanza di eccessivi svarioni rispetto al consensus è stesso una novità perché è rado è quasi rado ormai commentare tre dati che sono usciti tutte e tre pressoché in linea con le aspettative del mercato e vediamo un pochino come hanno reagito quindi i mercati a queste grandi notizie economiche che sono uscite e come hanno reagito per la prima volta aspettate che metto lo schermo per la prima volta rispetto probabilmente da quando faccio il diretta e rispetto al mio consueto voglio parlare dell'euro stocks proprio per parlare un attimino di quanto sia importante quanto sia stato importante questa settimana per l'euro stocks perché abbiamo raggiunto i massimi storici abbiamo raggiunto comunque i massimi storici se non considerassimo il paniere che che va a prendere anche diverse decadi precedenti ma comunque se consideriamo gli ultimi dieci anni massimi storici abbiamo raggiunto la quota 4.400 punti abbiamo addirittura toccato i 4.410 punti adesso siamo arrivati a un 4.399 con un'europa che è andata molto bene negli ultimi sei mesi siamo praticamente a ridosso della chiusura semestrale del mercato del 2023 a me sembra volato questo periodo francamente e vediamo un'europa che è andata molto al di sopra rispetto al mercato americano l'S&P 500 che ha toccato che da inizio anno ha performato con un più 9 e 33 per cento l'america e l'europa che ha sopra performato di più 5 punti ed è un aspetto da considerare da considerare molto molto attentamente fatemelo togliere oltre l'europa però come sono andati gli altri indici ecco dal tempo che non lo facevo ci terrei a commentare un pochino i principali stati ci troviamo di fronte ad un fuzzimib che è praticamente ve lo vado a prendere qui arrivato ai massimi ai massimi quasi ai massimi ripeto se consideriamo l'ultima decade è arrivato praticamente massimi lo andiamo a prendere l'altro date leggermente più basso rispetto ai dati di marzo che poi sono stati ritoccati ad aprile siamo in prossimità dei massimi storici il dax che invece è praticamente ai suoi massimi non è mai andato così alto è addirittura andato a sopra è andato al di sopra del grandissimo rally che c'è stato post covid fino al 2021 stesso discorso comunque discorso molto simile possiamo fare per il cac carante il cac carante che per chi non lo sapesse è l'indice francese anche esso ha arrivato ai massimi storici a ben oltre che sovra performato il grande rally che c'è stato lo rimetto qui il grande rally che c'è stato eh durante il duemilaventuno scusate durante il duemilaventi e il duemilaventuno dopo il grande ribasso che vi è stato il cac carante è andato ha toccato i il più trentuno per cento da settembre comunque per essere uno degli un indice europeo non è affatto non è affatto scontato discorso diverso invece per quanto riguarda la Spagna la Spagna che adesso anche qui la prendiamo dal duemilasei mi sembra un po' troppo presto prendiamolo dal duemilaventuno non riesce a ad arrivare a dei massimi non è arrivato ha superato scusate i massimi toccati dal duemilaventuno ma comunque siamo ancora molto al di sotto rispetto ai massimi storici a quelli che potremmo definire dei massimi storici veri e propri e ancora più diverso invece è il fuzzicento ossia l'indice delle certe aziende del mercato inglese anche qui siamo praticamente in prossimità dei grandi massimi quindi ci troviamo in un contesto nel quale ecco qua andiamo a prendere year to date siamo non abbiamo toccato i massimi storici perché c'è stato il grande crollo nel regno unito ma siamo lì un aspetto che ben poche persone potevano aspettarsi soprattutto a fine del 2022 pochissime persone io non di certo potevano aspettarsi un europa che avesse recuperato praticamente tutte le perdite che ci sono state a seguito dello scoppio della guerra e che anzi raggiungesse dei nuovi massimi o comunque siamo più o meno lì dato assolutamente interessante che dal titolo al video l'europa ai massimi e adesso bene prima di rispondere a questa domanda commentiamo un attimino il mercati facciamoci un altro un attimino la panoramica dei mercati mercato statunitense che comunque la chiude in positivo rispetto all'inizio della scorsa settimana più 1 e 62 per cento nasdaq invece che va ovviamente in sovra performance lo sappiamo bene il nasdaq è un paniere più concentrato da un punto di vista settoriale quindi queste fasi di mercato sovra per forma un indice che è più distribuito per quanto come ho sempre detto e come ci voglio fare un video sopra l'S&P 500 non lo ritengo un buon indice di riferimento per il mercato americano per via della sua concentrazione di fatto stiamo parlando di un indice composto per il 15 per cento da due aziende e per il restante 85 per cento da 498 aziende poi c'è amazon poi c'è berkshire poi c'è tesla che hanno dei pesi importanti rispetto alla stragrande maggioranza delle aziende fattore che non possiamo trascurare che noto essere molto di tendenza nelle ultime settimane ma che francamente non ne trovo molto il motivo perché l'indice è composto in questo modo da sempre da sempre noi sappiamo che l'S&P 500 sovrappisa determinati a determinati singole aziende rispetto che ad altre però comunque dato che se ne sta parlando in giro è bene sempre andarlo a ricordare questa cosa l'S&P che ultimamente è trainato praticamente da poche piccole aziende abbiamo un VIX che invece torna rimane per meglio dire in prossimità di minimi a 1681 come sempre ripeto il VIX misura la volatilità dell'S&P 500 e ci troviamo ben al di sotto del livello 20 il livello 20 che è un po' lo spartiacque tra la bassa volatilità e l'alta volatilità vi ricordo solo che negli ultimi 5 anni eccolo qui andiamo a prendere il 2022 per la stragrande maggioranza del tempo il VIX è stato al di sopra dei 20 punti adesso invece siamo tornati ai 16 ben al di sotto dei 20 punti piccolo commento su euro-dollaro giusto per andarlo a riprendere euro-dollaro che negli ultimi 5 giorni va in negativo meno 0.44% il dollaro non approfitta in questo momento un euro vale un dollaro e 0.8 centesimi quindi queste sono state le reazioni dei mercati considerazioni considerazioni riguardo l'Europa oggi ci concentriamo sull'Europa settimana scorsa abbiamo fatto l'America andatela a recuperare perché non voglio troppo andare a ripetermi e mi piace questo ruotare e prenderci le settimane per fare diverse considerazioni su diverse aree geografiche mi piace veramente tanto e spero lo appreziate l'Europa ha toccato i massimi e adesso come sapete la risposta è un non lo sappiamo nessuno di noi prevede il futuro ma possiamo fare delle considerazioni la prima di tutte è che un dato dell'inflazione che rimane ancora così alto che per quanto in prossimità comunque ha un piccolo rimbalzo sicuramente non farà felice la Lagarde la BCE in realtà io parlo di Lagarde come rappresentante della BCE per andare un po' a semplificare anche sicuramente non farà felice una Lagarde la quale è stata anche ben molto chiara rispetto alle sue indicazioni sull'aumento dei prossimi tassi di interesse ricordo che i tassi di interesse in questo momento si trovano al livello al 3.25% rispetto ad un'America che si trova già al 5.25% un'America che ha un'inflazione molto più ragionata mi verrebbe da dire molto più che ha seguito un trend ben preciso di discesa rispetto all'Europa ecco una cosa che sto notando molto che francamente non reputo corretta invito tutti quanti coloro i quali fanno questi ragionamenti di rivedere le loro idee nel considerare il mondo globale un tutt'uno è vero che siamo abbastanza interconnessi e che le politiche monetarie si stanno allineando ma una cosa è il mercato americano una cosa è il mercato europeo vanno trattati in maniera differente rispetto al mercato americano dove è assai più plausibile considerare quantomeno eventuali pause da parte della Fed qui siamo ancora molto indietro ripeto tassi di interesse al 3.25% inflazione al 7% che appena ritoccato siamo ancora molto indietro quindi attenzione a già aspettarsi un determinato taglio non abbiamo ancora la grande problematica delle banche del sistema bancario perché è molto diverso ne abbiamo già parlato del sistema bancario in Europa rispetto all'America quindi comunque ci troviamo di fronte ad una situazione già diversa quello che però mi sento di dire questa potrebbe essere veramente una clip perché è un consiglio che va al di là del singolo mercato americano europeo scusate del singolo contesto storico è una lezione che reputo utile a tutti quanti proprio di teoria finanziaria riprendendo le parole di Peter Lynch il quale ci ha ricordato come sempre che si perdono più soldi nel prepararsi ad una crisi rispetto a quelli che si perdono effettivamente durante la crisi stessa che cosa vuol dire molte persone adesso sono impaurite perché si trovano con un'Europa ai massimi storici rispetto ad un'inflazione ancora molto alta un mercato del lavoro che comunque ai minimi storici ad una BCE che non vuole ancora assumersi la responsabilità di interrompere l'aumento dei tassi di interesse poi staremo a vedere se lo farà o se non lo farà considerazioni personali a parte hanno paura hanno paura di prendersi il vento in faccia che lo posso comprendere è molto umano ma ricordo anche per tutte queste persone che ben poche nessuno davvero nessuno si aspettava che da inizio anno in sei mesi l'Europa avrebbe fatto il 14% ben poche persone e ripeto io non di certo questo non vuol dire però scaricare tutte quante le posizioni perché noi non possiamo sapere se questo massimo storico sarà il picco adesso da qui si devi cominciare a scendere oppure meno soprattutto nel lungo se lo guardiamo nel lungo termine faremo tutte quante le nostre considerazioni del caso è un piccolo è una piccolissima lezione di finanza personale che però ci tenevo a ricordare perché comprendo la paura ma quella è emotività come sempre è emotività noi dobbiamo rimanere lucidi e razionali ci troviamo di fronte a un'Europa che si sta muovendo in maniera disallineata rispetto ai dati economici sì molto probabilmente sì ma ripeto sempre che il mercato tende a scontare sta scontando troppo forse ma comunque tende a scontare e a mio parere rimanere così e aspettare che qualcosa cambi potrebbe farci perdere delle grandi opportunità soprattutto per quanto riguarda l'ingresso l'eventuale ingresso oppure la possibile uscita ripeto questo non vuol dire dovete andare a comprare adesso l'Eurostox il Futsimib il Caccarant non sto dicendo quello sto solamente dicendo che se lo state valutando ma ritenete che siamo arrivati a dei livelli troppo alti per cui si ricomincerà a scendere può essere anche ma vi ricordo che si perdono molti più soldi nel prepararsi alla crisi piuttosto che di quelli che si perdono durante la crisi stessa poi ognuno faccia le sue considerazioni personali ripeto non sono consigli finanziari ma ci tenevo a parlarne anche perché ne ho discusso con un cliente e mi sembrava una cosa utile da riaffrontare basta per adesso io vi lascio per questa puntata spero come sempre che sia stata utile che vi sia interessato commentate qui sotto fatemi sapere che cosa ne pensate e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti